Torna Nebro di Gusto ad Alcaralifusi. Dal 27 al 29 settembre la Kermesse siciliana dell'Eno Gastronomia festeggia la terza edizione nello splendido Borgo Nebroideo. Nel corso della manifestazione, alla quale parteciperanno alcuni dei migliori maestri del gusto siciliani, sono previste degustazioni, workshop, convegni e show cooking degli chef. Il 27, 28, 29 settembre con una piccola cosa del 30 dedicata esclusivamente ai ragazzi delle scuole, cioè importiamo il gusto nelle scuole e l'abitudine al buon mangiare, al buon vivere, ai buoni prodotti. Non solo dei Nebro di, noi cerchiamo di far riscoprire i sapori della Sicilia, ci basiamo soprattutto sui prodotti DOP, DOGG, i prodotti a marchio di tutta la Sicilia, perché l'amministrazione fin dalla predizione ha avuto un livello regionale, infatti abbiamo avuto chef stellati e prodotti altrettanto stellati, che vengono da tutta la Sicilia, da Ragusa, da Grigento, da Trapani, da Mazzara e ovviamente dai Nebrodi, che rappresenta in Sicilia un'isola nell'isola e sicuramente rappresenta una piccola isola del gusto. Abbiamo avuto la conferma, quindi mi scuserete se non vi faccio il nome adesso, perché ancora è stato appena, ci ha appena dato l'ok, ma dobbiamo formalizzare, un nome molto, molto, molto importante e molto famoso, è un chef anche molto televisivo, ci saranno i chef del territorio, come sempre, i migliori chef del territorio, come gli altri anni, perché è giusto che anche loro che portano, che mantengono la tradizione antica, abbiano la loro visibilità, una loro presenza, e ci saranno ovviamente i chef stellati che hanno una funzione in questo momento in cui la cucina è diventata protagonista anche in televisione e lo chef stellato è il divo. Devo dire che ha questo connubio per una stazione che punta solamente sulla qualità, noi non portiamo cantanti, non portiamo personaggi che non siano strettamente legati al mondo del prodotto agroalimentare siciliano, dei produttori e di chi usa questi prodotti per creare dei piatti straordinari.